E' con grande piacere che Temporarizam inaugura il suo utente di tre giorni dedicato al forum dell'autogestione. Stanno entrando adesso in un luogo che era di tutti, è stato sgomberato ma adesso torna ad essere di tutti. E' l'ex acqua potabile, sgomberato nel 2005 in piazza Carbonari, prendete il biglietto dell'ATM, prendete la bicicletta, prendete il motorino, prendete la macchina e recatevi in piazza Carbonari. Anche i piedi vanno bene Milano, siamo entrati, siamo entrati tutti con loro, in questo momento stiamo entrando e continuiamo a farlo e riempiremo questo spazio di gioia, di stare assieme, di voglia, di musica, di cibo per tutti, di socialità, di dibattiti. Venite domani poveriggio, domenica poveriggio, stasera, domani sera e domenica sera per teatro, musica e socialità autogestita. Questo weekend ha temporarizzato il forum dell'autogestione in piazza Carbonari, l'ex acqua potabile da adesso è di nuovo aperto per tutte e tutti.